E' una collezione straordinaria, quella esposta a Palazzo Beltrani in questi giorni e sino alla fine di agosto. Da Manet a Tode è questo il titolo, raccoglie grandi maestri del Novecento. De Chirico, Ligabue, Marc Miró, Renoir e Worrell sono solo alcuni dei nomi di cui in questi giorni si possono ammirare alcune opere. Il Palazzo delle Arti Tranese però offre anche l'incontro con William Tode in carne e ossa, tavolozze e pennelli, colori e tele. Dipinge senza sosta il maestro classe 1938 che già dai primi anni di vita aveva mostrato spiccate doti artistiche. Ma sono stati gli anni parigini a segnare il suo lavoro e a determinarne il successo. L'amicizia con Giovanni Marc, di cui diventerà custode della collezione, la conoscenza con Pablo Picasso, quella di Sartre, hanno prodotto un'influenza ben evidente nelle opere di quel periodo, alla fine degli anni Cinquanta. È considerato anche uno degli ultimi affrescatori parietali, erede della lezione di Tiepolo. Negli anni 70 recupera gli stilemi del cubo futurismo, ma Tode è anche altro. È musicista, è scenografo per il Colossal Creopatra, attore per De Sica e Visconti, scultore anche di questo omaggio per i mondiali di calcio in Sudafrica del 2010. Passerà trani quattro mesi, ci ha fatto sapere nel corso di una lunga intervista in cui ha dato più volte la sua disponibilità a insegnare ai più giovani la pittura. So che sono nella storia, a vent'anni c'erano i miei quadri nel museo, ma intanto morivo di fame. I miei quadri nel museo non significava poi vivere d'arte. Ho vinto tanti i primi premi e quindi non tutti hanno il coraggio che ho avuto io di andare a Parigi, a 17 anni neanche, e vivono un'esperienza di cui c'è la testimonianza su, accanto a Picasso, Brancussi, Monet, altra gente, Prac, i quali ho avuto anni, ma dai quali non ho preso niente, nulla ho imparato, perché avevo la mia personalità, come Giuseppe ha già la sua personalità. È un buon maestro, non deve plagiare, non deve... Io non insegno alla tode, io ti aiuto a spiegare cos'è l'arte, e la tua personalità deve venire fuori dal tuo cuore, dalla tua anima, questo devi fare un maestro. Anche perché devo lasciare una testimonianza di quello del mio sapere. Io ho insegnato fino a poc'anzi all'Accademia di Belle Arte del Zurigo, e non me ne feca niente a vedere la Svizzera. Ho buttato via 17 milioni al mese di stipendio, prendevo, per ritornare a casa mia, per dare qui le migliori energie della mia cultura. E ho scelto, io vengo da Roma, a Roma non ci torno più, sono stato direttore agli Uffizi e a Firenze e non ci torno più. A Sieno ho dato tanto e non ci vado. E io mia moglie, mia moglie è belga, pianista, ho detto senti, hai 17 anni che ti porto in giro per la Puglia, 17 anni fa a Ostuni, mi sono innamorato di Ostuni, il sindaco mi adorava. Poi ho scoperto Brindisi, a Brindisi c'è un museo con le mie opere, anche lì mi adorano, mi amano. Poi negli ultimi tre anni, due grandi mostre a Bari. Un anno, 2015, poi nel 2016, 17. L'ultimo l'ho finita il 15 di giugno, di gennaio, a Bari. Ho detto che a Bari non mi vedranno più. E ho tanti amici, perché è giusto andare da altre parti, ma loro si sono mossi. E poi da Bari, l'organizzatore dei miei mostri di Bari, l'ha organizzata a Cerignola, prima di venire qui. E a Cerignola? Beh, già avrei scoperto un bambino prodigio. Se non fossi andato quel giorno a fare questa conferenza, io non l'avrei scoperto. E quel bambino continuava a dipingere da solo, a perdere il tempo per queste cose. E questa è stata la mia gioia. Poi gli ho dato io le tele con le mie, più un pacco di carta. Ho detto, è questa carta così bella? Eh, ho detto Giuseppe, costa 50 euro a foglio. Lo so, gli hanno dato un pacco. E a casa ho fatto dei bei disini. Infatti me li ha portati capolavori. Una mostra nella mostra, la presenza di Tode in questi giorni a Trani. Appuntamento imperdibile. Imperdibile.